Comunicati, dichiarazioni via social network e frecciatine in politichese. Ormai si svolge così la campagna elettorale e dibattito politico. Al centro della questione ci sarebbe l'alleanza tra PD, Megafone e Cambiamoci Reale. Nei giorni scorsi una lettera appello firmata da 16 cittadini e cesi che esprimevano preoccupazione e disagio per la situazione politica della città promuovevano l'innovazione e il cambiamento. Due parole che sentirete tantissimo in questi mesi che ci separano dal voto cittadino. I primi a sottoscrivere il contenuto dell'appello sono stati i membri del Comitato Cambiamoci Reale, poi a ruota è seguito il comunicato del PD congiunto al Megafono, che sembrano due gemelli separati alla nascita, che sposava l'iniziativa dei 16 cittadini. Ieri, dalla pagina Facebook di Cambiamoci Reale, è apparso un comunicato che sembra più una dichiarazione di guerra nei confronti del Partito Democratico e del Movimento Rivoluzionario del Presidente della Regione Siciliana, Rosario Crocetta. La linea è chiara. I tempi li detta ad Agostino, travestito da Comitato Civico, si vota il 1 dicembre per la scelta del candidato sindaco e il programma è già in fase di definizione. Chi si vuole aggregare lo può fare sottostando alle regole che il Comitato Cambiamoci Reale si è dato qualche mese fa. La campagna elettorale è iniziata da tempo, ormai, ma non tutti ne sono al corrente. I tempi li detterà nel bene e nel male Nicolai D'Agostino, agli altri non resta che correre, mentre il centrosinistra si è diviso su almeno tre posizioni, come se fossimo nell'Emilia Rossa, che c'è tanto di quel consenso elettorale che ci si può permettere divisioni e prospettive da salotto buono intellettuale. Bene comune che nel simbolo sfoggia i campanini della chiesa, con una fiera stella rossa, a ricordare la matrice sinistrosa, poi il PD, che da una parte formalmente partecipa alle primarie di D'Agostino, con Francesco Fichera, unico consigliere comunale democratico da Cireale, e dall'altra cerca l'agnello da immolare per questa tornata elettorale. Dal fronte dell'amministrazione ci sarebbe una lista in fase di costruzione, gestita dal sindaco Garozzo e dall'assessore Calì, ma sono solo rumors.